Ragazzi è ufficiale, abbiamo finalmente il file Excel per l'asta di riparazione L'avete tanto richiesto, tanto atteso e finalmente è pronto Mando la sigla e ve ne parlo in abbondanza E vi spiego anche come utilizzarlo e come ottenerlo gratuitamente Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special Spero mi sentiate anche abbastanza bene Sto utilizzando la nuova postazione, come vedete Mi sono trasferito, spero vi piaccia Comunque potrei modificare le cose dall'oggi al domani Fatemi sapere e spero soprattutto fatemi sapere come si sente Perché il microfono è sempre un po' distante Vi chiedo assolutamente di supportare questo video con like Commenti qua sotto anche con un'opinione su quello che andrete a vedere Sul file Excel che vi mostrerò oggi per l'asta di riparazione Un file molto utile ma anche abbastanza semplice Nel senso che non abbiamo voluto aggiungere troppe cose Ma cose essenziali che possano rendere la vita più facile Ok? Ad un fatale allenatore durante l'asta di riparazione Ed è importante questo ragazzi Perché? Perché tante volte uno pensa che più funzioni può avere magari un file Più sarà utile Non sempre così Durante soprattutto un'asta di riparazione Bisogna essere lucidi Concentrati e tenere d'occhio i propri obiettivi Perché distrarsi compilando 3000 cose Guardando 200.000 fasce Valori Caratteristiche Potrebbe invece distrarvi dall'obiettivo Da quello che dovete fare Dalle scelte che dovete prendere in ogni singolo momento Quindi io vi voglio lucidi Ho preparato un file che possa farlo Ok? Che vi possa rendere la vita facile senza troppe distrazioni Cercherò di spiegarvelo passo per passo Ok? Ma ci farò anche diverse live Forse una stasera se riesco Se la connessione adesso qui dove mi trovo me lo consente Sto ancora settando tutto Ci vorranno un po' di giorni affinché mi mettano la linea giusta Quindi spero di spiegarvelo anche con diverse live Voi attivate la campanella sul canale così non vi perdete nulla E seguitevi anche sulla piattaforma Viola Lì giocheremo un po', faremo dei test Ok? Quindi non mancate Andiamo a vedere il file E vi spiego anche come ottenerlo Ora, di solito i file questi dove c'è molto lavoro Ragazzi io ringrazio sempre Smilo e Mattia Che ci hanno lavorato a molto ragazzi su questo file E ringrazio tutti coloro che riconoscendo questo lavoro che c'è dietro Sostengono il canale Ok? Con delle donazioni Però essendo un periodo un po' particolare No? Con pandemia e cose varie Ho deciso di farvi questo regalo Cioè di metterlo gratuito Ok? Ma con donazione libera Cosa intendo? Andiamo a vedere dove si trova il file Il file si trova all'interno del drive gratuito Ok? In fondo alla descrizione Trovate file fantacalcio C'è il punto del drive dove trovate il file Ma, ma, ma Una cosa che vi chiedo È di sostenere per chi può Per chi se lo può permettere Anche una minima donazione libera Libera Su tipi Ok? Io girerò anche parte di questo compenso Allo staff Excel Ma anche un piccolo gruzzoletto Lo sto raccogliendo per una Diciamo un progetto benefico Ok? Per ad esempio Fanta allenatori non vedenti Insomma Sto facendo anche vari progetti interessanti Quindi Se volete sostenere il lavoro che c'è stato dietro Tutto questo file Lo potrete fare con una donazione libera Di quanto volete Su tipi Dove trovate gli altri file Excel Ok? Quelli esclusivi Trovate vari post Sbloccherete quindi anche Gli altri file Se fate già dal livello ZAIC Ok? Ci sono tanti file All'interno Della pagina Comunque Questo si trova qui Ok? Asta di riparazione 2021-22 Nuovo appunto Versione 3.0 Attenzione perché lo modificheremo Lo aggiorneremo Costantemente Praticamente Vi avviserò tramite i social Tramite il canale YouTube stesso Quindi Restate sintonizzati Perché metteremo delle migliorie E suggeriteci anche voi Determinate cose Se ci sono errori E così Se trovate qualcosa Con la quale migliorarlo Anche perché Questo file Va a riprendere Quello che abbiamo fatto l'anno scorso Ok? E che abbiamo Aggiornato Con quello che ci avete consigliato L'anno scorso Carmi Mi piacerebbe che ci fosse questa cosa Mi piacerebbe che ci fosse quella Ok? Ora vi spiego Velocemente Quali sono le cose Che ho tenuto in considerazione Nel creare Il file Abbiamo pensato Innanzitutto A come A cosa Deve fare un fan d'allenatore Durante l'asta di riparazione L'asta di riparazione Ragazzi Ve l'ho sempre detto Nelle varie guide È un'asta Diversa completamente Da quella iniziale Non ci serve Avere Tutto il listone In ordine Per fasce Devo prendere almeno uno di questi O se riesco a prendere Più giocatori di questi No Dobbiamo fare tutto lo studio Che vi ho detto Nei video precedenti E anche Di altri anni Per quanto riguarda La preparazione all'asta Ok Una volta fatto tutto lo studio Io so quali giocatori Devo puntare Quindi devo avere Innanzitutto La lista dei desideri Ok? Con gli obiettivi Che devo Raggiungere Che giocatori Che mi interessano All'asta di riparazione Monitorare La mia squadra Come la sto Aggiustando Ok? Con anche i crediti Che si calcolano velocemente I svincoli E cose varie Gli slot Soprattutto Che vengono Anche Tenuti Sotto controllo E lo stesso Magari Fatto anche sugli avversari In maniera semplice Ok? Senza segnarmi Tutti i nomi Tiz ci ha preso questo Tiz ci ha preso quella Non ci interessa Noi ci serve Slot Crediti Avversari Ok? E come detto Adesso vi mostrerò Il file Per farvi capire Come andarlo Ad utilizzare Allora Eccolo qua Adesso zoom un po' Per ogni sezione Però questa è la misura Che io vi consiglio Di utilizzare Perché così avrete Facilmente sotto controllo Il tutto Vado adesso A zoomare Zona per zona Così vi spiego meglio E vedrete meglio Come utilizzarlo Ok? Zoomiamo un pochettino Ok? Dovrebbe già andare così Come vedete Si può utilizzare Sia modalità classic Che mantra Cosa cambia? Cambia Che nei ruoli Ovviamente vi spunteranno I ruoli mantra Utilissimo per i sostituti Ad esempio Perché così Andiamo a vedere Come stiamo Ricostruendo la nostra squadra Con i ruoli mantra Che vanno spuntando Utilissima sta cosa Ma la differenza Ma la differenza tra classic E mantra E anche per quanto riguarda I giocatori avversari Perché I fan d'allenatori Avversari Non ci interesserà più Il determinato ruolo Ma solo lo slot Quindi Quando dovremmo poi dire Al file Di Diciamo Vai Ve lo spiego dopo Quando dobbiamo dire al file Che il giocatore Il fan d'allenatore Ha ribito No slot Gli metteremo una X Piuttosto che la lettera del ruolo Ma adesso vi spiego meglio Come funziona il file Nella rosa Compiliamo Inseriamo Tutta la nostra rosa Ok Inseriamo la nostra rosa E vi faccio un esempio Già di come Svincolare un giocatore Facciamo conto Che nella nostra rosa Abbiamo Rado Il giocatore che io odio L'ho preso Come esempio appositamente Io infatti Non lo prendo mai Nei miei fantacalcio ormai Al massimo Una decina di anni fa Comunque C'ho il Rado in squadra Lo devo svincolare Ora Come vedete Appena inseriamo dei giocatori In questa colonna Da Svink Ok Da spicolare appunto Spuntano Spuntano colore rosa Questo colore rosa Va Diciamo Vanno compilate Queste Queste caselle O possono essere compilate Ad esempio Nei crediti residui Noi mettiamo Quelli che ci sono rimasti Da prima Ad esempio A me in un fantacalcio Sono rimasti Tre crediti Ok Extra budget Abbiamo un budget Di 100 crediti in più Per l'asta di riparazione Perché è il 10% Dell'asta iniziale Quindi 1000 crediti 100 crediti in più 103 crediti Ok Questo Che vedete qui Adesso è il budget Che io ho a disposizione Rado Lo devo svincolare Ora Siccome alcuni svincolano Con la quotazione Alcuni svincolano In base al prezzo iniziale Noi possiamo decidere Di mettere la Q Se svincoliamo in base Alla quotazione P Se svincoliamo in base Al prezzo D'acquisto Ok Quindi Rabu Io nel mio fantacalcio Si ottiene la quotazione E metto la Q C'è percentuale di recupero Perché alcuni Ottengono la metà Questo Mi Mettevo anche la percentuale E lui mi calcolava I crediti recuperati Semplicissimo ragazzi Nel sostituto Ovviamente vado a mettere Il giocatore Che vado a prendere Al suo posto Faccio un esempio Vado a prendere Che so Casale Ok Lo vado ad inserire E posso mettere Pure i crediti Casale Lo pago 5 crediti Facciamo un punto E si va A riempire Si va a riempire Lo slot Mi diminuisce qui E mi diminuiscono I crediti Attenzione Che i colori Anche degli Diciamo Dei crediti E degli slot Cambiano i colori In base A quanti slot Cioè Più diminuiscono I slot Più va verso il rosso Più diminuiscono I crediti Più vanno verso Il rosso In questo caso Diventano bianchi Perché io Ho finito L'amsta di liberazione Ho riempito Lo slot Che avevo liberato Ok Capito Adesso Qui come detto Mettete tutta la vostra rosa E questo lavoro Di compilazione Lo fate solo Per i giocatori Che state svincolando Ok Non per gli altri giocatori Va bene Ora Andiamo a vedere Invece una cosa Ancora più importante La lista Degli obiettivi Questa cosa È importantissima Perché Qui Vi mettete Tutto ciò Che dovrete Tenere d'occhio Durante l'asta Cioè Mettete I giocatori Studiate la vostra Lista svincolati E poi Vi andate a mettere In ordine Da quelli che volete Acquistare di più A quelli che vi servono Di meno In questa lista Svincolati Andate a mettere Il tutto Ok Ve li mettete In ordine Semplice Semplice Vi sponderà Ruolo E anche Quotazione Attuale In questa colonna Dove c'è venduti Cosa serve Ad esempio Io mi metto Nella lista Guardate c'è anche Un menu A tendino Non so se vi spunta Nella registrazione Spero di si Comunque Lo utilizzo direttamente Inserisco Afenagian Ok Questo file Al momento È settato Per Listone Lega e Fanta Calcio Ma lo potrete utilizzare In un altro modo Che vi spiegherò Alla fine Quindi guardatelo tutto Comunque Afenagian Viene preso Da qualcuno Ok Che sia io Che sia un altro Vado a metterci Una X Ok Se è stato preso Puntavo Afenagian Non sono riuscito A prenderlo L'ha preso qualcun altro Ci metto una X E lui lo taglia Così nella mia lista Svincolati Lista degli obiettivi Risultano non tagliati Solo quelli che sono Ancora liberi Ok Quindi tutti Quando qualcuno Prende quel giocatore Che era il nostro obiettivo Ci mettiamo la X Accanto Semplice Semplice Perché abbiamo creato Un'altra lista Obiettivi extra Ok Un accanto Perché Praticamente Quando C'è un'assa di riparazione Spesso accade Che i fantallenatori Avversari Svingolano qualcosa Di interessante E Poi uno Se lo dimentica No 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 Noi non ce lo dimentichiamo Utilizziamo Gli slot extra Che abbiamo Qui a destra Ok E ci andiamo a segnare I giocatori più interessanti Che gli altri Magari hanno svingolato Così magari Se non riusciamo a prendere Qualcuno dei nostri Migliori obiettivi E quelli degli extra Cioè quelli che sono stati Svingolati Sono migliori Magari degli ultimi Che erano nella lista Svingolati Potremmo puntare quelli Senza Dimenticarceli Perché molti Poi se li comprano Alla fine Perché noi li abbiamo Dimenticati Ok Non saremo noi Quelli a dimenticare I nomi buoni Svingolati Va bene Adesso andiamo Sulla monitorazione Degli avversari Ok Qui ci sono Come vedete Tanti slot Diminuisco un po' Lo zoom Ok Ne abbiamo inserito 11 Come vedete Parte da squadra 2 Fino a squadra 12 Perché Abbiamo considerato Fino a un fandacalcio A 12 Di più Non vale la pena Monitorare veramente Tutti i fandallenatori Ci si concentra Solo sulla propria squadra Così via Già anche a 12 Monitorare 11 Fandallenatori avversari Non è semplicissimo Però Se qualcuno lo vuole fare Buon lavoro Ora Ad esempio qui Andiamo ad inserire Crediti Io già ho fatto un test Poco fa 130 Cos'è? Facciamo conto che Un fandallenatore Parte con i 100 crediti Extra Più i 30 Che è ottenuto Dagli svincoli Quindi ci mettiamo Direttamente Il totale Con il quale Inizia Dobbiamo sapere Ovviamente I ruoli Che ha svincolato Quindi lui ha svincolato Facciamo conto Due difensori Quindi mettiamo Una D Un'altra D Ha svincolato Un centrocampista E due attaccanti Quindi La squadra 2 Ci possiamo cambiare Ovviamente il nome Deve Riempire Due difensori Un centrocampista E due attaccanti Con questi 130 crediti Questi 5 slot Quindi abbiamo Tutte le informazioni Che ci servono Crediti a disposizione Gli slot E anche qui I ruoli Va a comprare Un centrocampista Per Non so 35 Fantamilioni Ok Ecco Sappiamo Ovviamente Tutto va scalando Ok I crediti I residui Gli slot E così via Ma soprattutto Sappiamo che Quel fantallenatore Non dovrà comprare Centrocampisti Quindi questo Ci serve Per capire I crediti E slot Di tutti i Fantallenatori Avversari In questo modo Sappiamo Se avremo la certezza Di acquistare Un giocatore Quante probabilità Abbiamo Insomma Ci serve Per quello Ok Me l'avete chiesto Tantissimo L'anno scorso Non c'era questa possibilità Di monitorare Gli avversari Me l'avete chiesta E l'abbiamo inserita Ok L'ho inserita in questa maniera Perché sembra Quella più efficace Cioè Poter vedere Quali slot Di quale ruolo Ok C'ha un fantallenatore Crediti Residui Slot complessivi Quindi Ovviamente Se Come detto La modalità È mantra Al posto Della lettera Del ruolo Mettete una semplice X Ok Così Lui il file Considererà Uno slot Libero E poi Lo riempirà Con i crediti Diciamo Spesi Va bene Semplicissimo Ragazzi Detto ciò Il file È questo Ragazzi Non l'abbiamo reso Troppo più complicato Voi direte Carmi ma le fasce No Non servono le fasce Perché le fasce Ce le avete già In testa Nello studio E vi andate a fare La lista degli obiettivi Seguendo le fasce Che avete preparato O meglio L'appetibilità Che per voi Ha quel giocatore Cioè A me Un giocatore Che ha un'appetibilità alta Potrebbe non servire Perché a me servono I difensori Allora Se io devo riparare Un ruolo Ed è fondamentale Aggiustare quel ruolo Io li metto in cima Anche se non sono migliori Dell'assa di riparazione Io metto in cima Quelli che mi servono di più E poi Gli altri Li metto sotto Chiaro Mettete i giocatori In base a quelli Che vi servono di più Che sono più interessanti Secondo voi All'assa di riparazione In base all'appetibilità Vostra Soggettiva Ok Mi raccomando Come detto Utilizzate anche quello extra Per chi utilizza Un listone Che non è lega Pantacalcio Perché voi magari Qui non lo vedete Nella registrazione Ma c'è anche un menu A tendina In ordine alfabetico Lo potete utilizzare Se volete inserire Ad esempio Nella lista Svincolati Ci metto adesso Un busio Se è rimasto libero Che ci metto Vari giocatori Sto utilizzando Un menu a tendina Per inserire I vari Giocatori Ok Adesso prendiamone un altro Ampadu Facciamo finita Così via Ok Mettete i giocatori Utilizzando il menu a tendina Ma per chi utilizza Un altro listone Per chi utilizza Le che fanno calcio Basta andare qui in fondo Vedete ci sono vari tasti Per resettare tutto Io vi consiglio Se dovete fare più Aste di riparazione Utilizzate più file Cioè fate Copia e incolla All'inizio Ne fate diversi vuoti E poi utilizzate Ognuno per un'asta diversa Mentre per quanto riguarda Potete anche resettare tutto E aggiornate il listone Questo è importante Nel periodo magari Di calcio mercato Se qualcuno fa Un'asta di riparazione Ancora quando non si è chiuso Io vi consiglio Di aspettare il mio febbraio Però comunque Aggiornate il listone Dopo averlo scaricato Ok Io in ogni caso A fine gennaio Cioè inizio febbraio Ve lo ricaricherò Già aggiornato Però Se avete una redazione Diversa Andate qui nel foglio In basso Listone E andate a copiare Qui dove c'è il listone Andate a copiare Il listone Della vostra redazione Ok Utilizzate le colonne giuste Mi raccomando L'importante è che Ruolo Classico Mantra Se utilizzate in altre redazioni Non penso ci sia Però l'importante è che Nome Squadra Più che la squadra Almeno nome E ruolo E anche la quotazione Se utilizzate il discorso Delle quotazioni Siano corrette Ok Quotazione attuale Soprattutto Mi raccomando Va bene Detto ciò Questa cosa serve anche Per chi ha un Excel Molto vecchio Che non può utilizzare L'aggiornamento automatico Quindi se lo deve Aggiornare manualmente Ma come detto Io a febbraio Ve lo ricaricherò Aggiornato Con il listone Aggiornato Detto ciò ragazzi Io veramente Spero di essere stato chiaro Ho perso un po' di tempo Ma Credo di aver spiegato Tutte le maggiori funzioni Che ha il file Ne aggiungeremo ancora qualcuna Perché Stiamo già Capendo alcune migliorie Che si possono fare Però se ce ne suggerite Altre voi Siamo sempre lieti Di ascoltarvi Non è detto Che le inseriremo Perché alcune sono obsolete Ragazzi Cioè Io ho pensato innanzitutto Alla concentrazione Del fantallenatore Non mi servono 3.000 funzioni Che mi distraggono La stessa di riparazione Quanto dura? Un'ora? Due ore? Non dura? Nove ore Quelle ore che durano Devo essere concentrato Devo essere rapido Concentrato sull'acquisto Che mi serve Chiaro? Quindi spero di essere stato chiaro Come detto Poi però faremo Delle Diciamo Delle live Dove Lo utilizzeremo Faremo forse una live Anche con lo staff Con Smil e Mattia I ragazzi che mi hanno dato una mano A realizzarlo Così vi Ne parleremo un po' Ci potrete vedere in diretta Alcune funzioni Come funzionano Ve le spiegheremo Ancora meglio E così via Va bene? Detto ciò Un abbraccio Da Carmi Buona assa di riparazione a tutti Ci vediamo domani Già con un nuovo video Ci saranno Fanno consigli di giornata E non solo E buona fortuna a tutti Ok? Mi raccomando Studiate prima per l'assa di riparazione Preparatevi E poi utilizzate il file Che vi ricordo È gratuito Ma È apprezzato Come detto Un sostegno Che non l'ho voluto mettere Proprio a pagamento Però Se sostenete Visto che Magari c'è un lavoro enorme dietro Beh È gratuito Ok? Dai Un abbraccio da Carmi Ciao